La Marsica trema ancora, dopo il sisma dell'altra sera di magnitudo 4.4, avvertito chiaramente anche a Roma e nell'Alta Campania, una nuova scossa, stavolta di magnitudo 3.5, fare affiorare alla mente tragici ricordi. La scossa è avvenuta una ventina di minuti dopo la mezzanotte e anche questa volta, come quella scorsa, l'epicentro è nei pressi di Balsorano, al confine tra Lazio e Abruzzo. Un'altra piccola scossa all'alba si è registrata a Macerata. Quando si tratta di terremoto sono rarissime le scosse isolate, si parla infatti di sciame sismico e questa notte le scosse in successione sono state almeno cinque. Nonostante non vi siano stati danni a persone o cose, si riaccende la paura in chi vive nella Marsica, una zona di massimo rischio sismico che già in passato ha avuto esperienza di diversi terremoti devastanti. Scuole chiuse in tanti comuni in provincia dell'Aquila e in Cioceria per accertare le condizioni strutturali dei fabbricati. Molte le persone che svegliate dal terremoto sono scese in strada, alcune temono anche di rientrare in casa. Nei mesi precedenti e il sisma del 6 aprile 2009 che provocò 309 morti, furono molti gli aquilani a dormire in auto. In quel periodo la Commissione Grandi Rischi intraprese una campagna mediatica di rassicurazione della popolazione. Dal processo che ne eseguì emerse che gli abitanti, convinti dall'autorevolezza della fonte, abbandonarono le misure di precauzione individuali seguite per tradizione familiare con tragiche conseguenze. I sindaci marsicani però si stanno già adoperando per fornire tende riscaldate in caso di emergenza. In stanza notte alcune persone sono state ospitate nella scuola che è sicura e quindi soprattutto gli anziani abbiamo ospitato perché si sono sentiti più tranquilli insieme a noi. Veramente anche qualche cittadino ha preferito dormire in macchine, le abbiamo avuto qui di Francia intorno al nostro municipio e nel centro di accoglienza, quindi hanno sentito forte la vicinanza sia dell'amministrazione, delle forze dell'ordine, della protezione civile. Quindi abbiamo fatto tutto in modo preventivo e anche lavorato di più, direi, per eventuali emergenze. Tutte le strutture d'emergenza rimarranno attive finché è necessario. Nel frattempo permane l'allerta gialla. L'attenzione è molto alta, non può che essere così quando ci sono scosse di questa intensità, ma è un'intensità che deve certamente allarmare ma non far perdere la testa. Quindi azionare tutti i sistemi di controllo, di difesa, di autosicurezza, di autoconservazione che certamente il territorio ha in essere, che le istituzioni hanno in essere, hanno posto in essere già da subito ma che dovranno sicuramente essere procrastinate per le prossime ore fin quando avremo la certezza della fine dell'emergenza. In questo momento c'è un'allerta, una tensione alta ma con una consapevole serenità di avere i mezzi per rispondere all'emergenza.